Come abbiamo detto in apertura, salirà il Quirinale nel pomeriggio alle 16.30. Il Presidente del Consiglio è incaricato, l'economista Carlo Cottarelli, per sciogliere la riserva e con tutta probabilità proporre la lista dei ministri al Capo dello Stato nel momento più difficile dall'inizio del suo mandato. Dal Quirinale in diretta, Luciano Gelfi. Sì, buongiorno. È proprio così. La notizia è arrivata praticamente mentre i nostri titoli andavano in onda. L'annuncio che Cottarelli salirà alle 16.30 per conferire con il Presidente della Repubblica. Quindi poco più di 24 ore dal momento in cui ieri Mattarella gli ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo che Cottarelli ha accettato con riserva, come vuole la prassi. È un momento delicato, lo dicevate dallo studio. Non si nasconde qui al Quirinale l'amarezza per le polemiche. Si osserva anche l'andamento dei mercati finanziari e si lavora però anche alle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, con la tradizionale rivista militare su Via dei Fori Imperiali. Ma le immagini si riferiscono all'incontro avvenuto pochi minuti fa del Presidente Mattarella con la Presidente croata Graba Kitarovic in visita ufficiale. Un incontro che è in questo momento in svolgimento. Cottarelli è atteso qui con una lista di ministri che avranno preso l'impegno di non candidarsi alle elezioni e che sembrano in ogni caso dietro l'angolo dal momento che l'orizzonte temporale massimo che si è posto Cottarelli accettando l'incarico era quello di arrivare a fine anno con la legge di bilancio a portare il Paese al voto a inizio 2019, ma quello più probabile, mancando i numeri in Parlamento, è quello di elezioni. Ha detto Cottarelli subito dopo il mese di agosto.